amici della chat live benvenuti e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento settimanale con le pillole e gli approfondimenti dal mondo dei certificati questa settimana abbiamo deciso di intraprendere un approfondimento dedicato all'operatività guardiamo in particolare agli indici americani per vedere insieme quello che abbiamo preparato per voi vi lascio però prima ai numeri della settimana i listini azionari chiudono la settimana con il segno rosso con le vendite alimentate dai timori legati all'aumento dei casi globali di coronavirus e di un escalation della tensione tra stati uniti e cina stavolta non a colpi di dazi o accuse sulla pandemia ma di chiusure di ambasciate sono questi driver di mercato che spostano gli equilibri molto più dei dubbi collegati all'effettiva bontà degli stimoli all'economia messi in campo dai governi e dalle banche centrali in europa riscontriamo cali generalizzati nell'ordine del punto percentuale male il fuzzi 100 a meno 2,65 e il cacaranta meno 2,23 per cento in america il recupero sul finale di seduta limita le perdite che in questa ottava si sono concentrate sul comparto tecnologico anche a seguito di alcune trimestrali non andate nel vesto giusto federal reserve trimestrali è un calendario macroeconomico piuttosto ricco saranno invece i fattori capaci di orientare l'andamento dei mercati finanziati nella prossima ottava su tutti spiccano l'appuntamento della riunione del fomc e le dichiarazioni di jaron powell in programma mercoledì e il pil americano del secondo trimestre previsto per giovedì 30 in europa i fed fans il pacchetto da mille ottocento miliardi di euro volto a stimolare la ripresa economica del vecchio continente è passato sull'accordo dico tra i capi di governo ora la palla passa all'europarlamento e l'esito non è per nulla scontato sul fronte delle variabili che condizionano l'andamento dei prezzi dei certificati l'accordo sui recovery fund dal nuovo slancio alla chiusura degli spread il differenziale btp bund scende fino a 144 punti base livelli che valgono i minimi da inizio 2020 nulla di fatto invece sul fronte della volatilità di mercato nonostante la settimana si chiude il rosso non osserviamo movimenti particolari sul fronte del vix l'indice di volatilità implicita dello spur il vix va a braccetto con il bistox il gemello europeo entrambi chiudono in area 25 per cento guardiamo ora alle performance dei sottostanti dei certificati di investimento flop della settimana nuovamente per il titolo wildcard che lascia sul terreno circa il 20 per cento del proprio valore in assenza di news flow il titolo perde decisamente di appeal male intel che chiude la settimana a meno quindici virgola sessantotto a seguito di una buona trimestrale ma di una pessima guidance per il secondo semestre 2020 scende anche easy jet meno un per cento male l'intero comparto biotech se intel va giù a mds sugli scudi ed è lei il top performance della settimana con più 26 per cento nuovo record dell'oro a quota 1900 dollari launch a spinge tutto il comparto delle materie prime corab resources new gold greenland minerals yamana gold tutti tra più 16 e più 13 per cento guardando al secondario questa settimana sono entrati in quotazione 48 nuovi strike i certificati attualmente quotati sul segmento certix e sul sedex di borsa italiana salgono così a quota 7886 amici eccoci ritrovati il tema di oggi è l'america l'abbiamo in realtà scelto prima che decidessero l'indici di tornare a scendere è una fattispecie di mercato che non vedevamo oggettivamente da tempo gli indici stornano ma sicuramente dopo la grande corsa è del tutto fisiologico il settore americano è rimasto indenne alla crisi che comunque ha coinvolto tutti gli altri indici una forchetta rispetto allo spread con l'europa che si è allargata decisamente tanto con parto tech che in realtà ha viaggiato proprio con altri ritmi abbiamo pensato di fare questo approfondimento per vedere quali occasioni ci sono sul mercato e anche per vedere lo stato degli indici azionari non sarò come sempre da solo do il benvenuto a matteo pecchiari ciao matteo ciao giovanni e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando allora anche matteo fa l'esordio sulla ced live è un fa parte dell'ufficio studi di certificati e derivati allora matteo la prima domanda che ti faccio anche per fare un quadro su dove stiamo con con gli indici con alcuni livelli ecco a te chiedo ehm faccio un quadro anche del del panorama dell'indice azionari americani anche relazione eh dell'operatività che sul nostro canale telegram avevamo eh avevamo posto sotto l'attenzione proprio quella di alcuni spread che vuoi non vuoi avevano raggiunto livelli che potevano essere interessanti per un'operatività market neutral sì allora diciamo il coronavirus diciamo che ha aperto molti eh molti spazi a dei mega trend che poi si sono evoluti e hanno insomma aumentato le loro differenze e il nasdaq diciamo il principale esempio di di tutta questa situazione in quanto rappresentando il reparto tecnologico è quello che ha attirato più di tutti quanti infatti diciamo tutte le azioni tecnologiche sembrano essere immuni al coronavirus e il loro business sembra essere andato avanti senza avere particolari effetti negativi al contrario di quanto invece possono essere state tutte le aziende più considerate value come quelle del Dow Jones quindi insomma in settori già molto stabili che però hanno sofferto pesantemente di questa situazione di conseguenza tutta l'attenzione e infine gli investimenti grandi sono andati appunto in questo settore e facendo indebolire pesantemente tutte tutti gli altri indici come l'SP500 e il Dow Jones che infatti sono rimasti parecchi indietro come si può vedere da qualsiasi grafico giornaliero il nasdaq è l'unico che ha recuperato e addirittura ha rotto il massimo toccato a febbraio il massimo storico adesso siamo siamo su una resistenza di 11.000 quindi ha guadagnato già un 10% da quel livello l'SP500 e il Dow Jones invece sono rimasti parecchi indietro ancora non hanno recuperato i livelli di febbraio e infatti questo ha dato insomma ha aperto l'opportunità per un'operazione di spread longando il Dow Jones e shortando il nasdaq fondamentalmente in quanto in quanto il differenziale di rendimento si era si era allargato molto e questo infatti ha potuto portare un'operazione con un esito fortunatamente positivo a tutti per tutti coloro che ci seguono il nasdaq nella fatti specie possiamo vedere insomma diversi livelli che potrebbero essere viste le riscese di questi ultimi tre giorni potrebbero fornire da da supporto per un buy diciamo di di medio termine anche se comunque stiamo entrando nella nella sessione estiva sessione caratterizzata solitamente da pochi volumi di scambio e eh speriamo che non ci siano qualche sorprese come insomma i mesi di luglio agosto ci hanno ci hanno abituato allora in primis i livelli che possiamo andare a vedere eh come primo appoggio sono un diecimila due cinquanta il diecimila due cinquanta rappresenta un massimo un massimo che è stato testato ben due volte e poi dopo questo accumulo in questa zona è riuscito a effettuare un breakout e arrivare al target degli undicimila di solitamente i livelli di resistenza che sono stati breccati al rialzo una volta eh rotti eh quando vengono rivisitati dall'alto diciamo fungono da supporto quindi questo potrebbe essere una prima area interessante per appoggiare un un long di medio termine ulteriore area interessante possiamo trovare i novemila sette e cinquanta e successivamente i novemila tre e cinquanta diciamo queste sono aree di minimo minimo tra l'altro settimanale e eh il primo minimo diciamo è anche il minimo dell'apertura del mese di luglio quindi diciamo molti investitori guardano molto attentamente i livelli sia settimanali sia mensili appunto per riallocare le risorse nei propri portafogli e ribilanciare appunto tutto tutto quanto quindi la situazione rimane questa adesso vediamo un po' di debolezza anche perché stiamo entrando nella parte insomma estiva quella in cui ci sono meno volumi quindi magari ci potrebbe essere qualche realizzo di chi è long da un po' di tempo e riportare il Nasdaq verso i novemila e cinque diecimila io personalmente è fermato su un livello quasi chiaro insomma eh sì già già adesso vediamo questo livello che insomma fornito da supporto vediamo nella sessione di oggi che cosa farà se avranno voglia di vendere e arrivare su livelli più bassi o lateralizzare in questa fascia ecco ok invece per quanto riguarda il Dow Jones ecco per l'andamento dei titoli un po' più eh diciamo dal business classico e un po' più value la situazione invece qual è? Allora sì il Dow Jones come dicevo prima assieme all'SP500 è uno di quei è uno di quegli indici che non è riuscito a recuperare come si può vedere dal grafico le le discese esatto del del coronavirus non ha nemmeno non è riuscito nemmeno a chiudere il primo gap che si formò quel lunedì quando poi insomma non abbiamo lasciato quei livelli di massimo e questo anche perché diciamo molte delle azioni hanno sofferto insomma hanno vissuto storie di insomma un peggioramento del merito creditizio degli utili molto inferiori all'attesa e al contrario appunto del tecnologico che continua invece a dare sorprese positive agli investitori quindi di conseguenza adesso il Dow Jones sta viaggiando appena sopra la sua media al 200 periodi che fa da spartiacqua sul giornaliero e come abbiamo visto l'ultima volta che si era eh che aveva chiuso sopra questo livello si era conformata diciamo una una situazione un pattern a isola che poi ha portato insomma il giorno dopo un meno cinque anche perché era un pattern di eccesso data l'apertura in gap di quella settimana al momento Giovanni io ti dico che secondo me rimaniamo su un un laterale rialzista come trend sul Dow Jones perché comunque siamo sopra la media 200 sono due mesi da inizio giugno che stiamo accumulando su questi livelli tra i 26.000 e i 24.8 adesso siamo ancora sopra questi livelli quindi io un buy sulla debolezza a 26.000 lo appoggerei per un'operazione di medio termine come sai io la vedo sempre short quindi diciamo che mi aspettavo di sentirti dire qualcosato ma a parte gli scherzi eh i grafici ovviamente eh suggeriscono questo e anche il trend appare ancora chiaro anche questi due giorni di prese di beneficio non hanno intaccato ancora nulla allora eh Matteo guardiamo anche un po' insieme un po' di operatività abbiamo accennato allo spread trading che abbiamo eh diciamo seguito attraverso eh i i leverage nel caso specifico i leva i leva dinamica quindi messi a disposizione sia da BNP Paribas che da Unicredit ma soprattutto anche da Ponto Bell e quindi diciamo incastrando posizioni long e short si riescono a fare queste queste operazioni per guadagnare da una eh dalla chiusura della forchetta del differenziale di rendimento che si è eh che si è creato tra Nasdaq e Dow Jones dal punto di vista del del segmento investment invece proprio anche in considerazione della delle caratteristiche implicite che nonostante il trend sia chiaramente long alcune variabili come ovviamente la eh la volatilità eh fa sì che eh l'industria sta andando in direzione comunque chiara eh sulla scelta di voler puntare sui titoli tecnologici per strutturare i certificati che offrono anche dei rendimenti e dei trade off interessanti quindi ehm se c'hai selezionato qualcosa dal lato investment sia sia long che short perché molto spesso il Nasdaq o i titoli anche tech possono essere utilizzati anche eh in ottica reverse non con molte soddisfazioni da parte degli investitori perché ricordo alcuni casi limite che magari avevamo anche trattato quando abbiamo parlato di Tesla perché oggettivamente il fortissimo eh recupero rialzista di alcuni titoli Tesla ma anche Apple e Amazon ma dicono che alcuni alcuni reverse nel tempo stanno tendendo quasi a zero se non praticamente zero ecco quindi un quadro anche su migliori investment in circolazione. Sì allora un secondo che cambio lo schermo allora perché comunque anche il tema delle trimestrali adesso un po' d'attualità Tesla è andata bene però adesso tocca tocca alle altre big quindi insomma anche il focus potrebbe spostarsi su su questo settore anche in virtù del rilascio dei numeri che potrebbe portare volatilità ecco. Sì. Allora vedi il mio schermo Giovanni? Sì te lo puoi zoomare un pochino credo che. Ok. Perfetto. Ok. Allora partiamo da questo cash collect boost emesso dall'emittente francese Società General è un prodotto questo a capitale condizionatamente protetto con scadenza prevista a gennaio 2023 quindi abbiamo altri due anni e mezzo di vita residua. È un prodotto scritto su quattro titoli tutti americani il primo è JP Morgan gli altri sono fondamentalmente titoli appartenenti al settore tecnologico infatti come abbiamo già detto si vede come il titolo bancario si è rimasto indietro a livello di titoli value contro titoli grow quindi esattamente esattamente negativo e gli altri esatto che è il worst del nostro basket al 72 per cento gli altri hanno corso parecchio di più lasciamo perdere tesla che è un caso a parte allora questa struttura che ha una barriera al 50 per cento rispetto ai prezzi strike quindi diciamo si va long con abbastanza una distanza ecco da percorrere per evitare insomma perdite sul capitale investito e diciamo questa struttura punta al pagamento di coupon che sono inizialmente dell'1,5 per cento mensili del valore nominale quindi fondamentalmente con un valore nominale di 100 euro si riceverà un euro e mezzo per ogni prodotto acquistato. Dal 23 ottobre di quest'anno c'è sia la possibilità che il prodotto rimborsi anticipatamente con un trigger al 100 per cento quindi che il prodotto insomma si estingua e l'emittente rimborsi i 100 euro di valore nominale che insomma a fronte degli 83 euro oggi di prezzo potenziale di acquisto si otterrebbe una buona un buon rendimento sia continuerà a pagare dei coupon mensili dello 0,5 per cento con un trigger cetolare sempre al 50 per cento quindi finché questo livello del 50 per cento non verrà violato il flusso cetolare si percepirà tutto e a scadenza si percepirà il valore nominale quindi insomma si otterrà una buona performance. Non costa oggettivamente tanto c'è l'effetto boost sulle ultime tre cedole c'è anche l'opzione autocollable e comunque anche dopo l'effetto boost comunque c'è del 0,5 per cento al mese eh non non è male dinamica totalmente attaccata a a GP Morgan. A GP Morgan gli altri stanno proprio eh da un'altra parte quindi buon flusso cetolare quindi ecco era proprio per sfruttare il differenziale tra tra come se fosse un Dow contro Nasdaq. Sì fondamentalmente sì. Allora passiamo è una valida è una valida idea guardando invece squisitamente a Nasdaq credo che si possa spingere anche di più sull'acceleratore del dei dei rendimenti no? Allora sì prendiamo ad esempio questo Phoenix Memory questo è un prodotto di casa Von Tobel e allora abbiamo questo prodotto che dura cinque anni quindi insomma abbiamo abbastanza tempo per lasciar correre i titoli fondamentalmente sono tutti i titoli questi qua appartenenti al settore tecnologico Microsoft Microsoft Facebook Intel e Snapchat eh sono titoli anche di cui insomma ci hanno sono già uscite le trimestrali questa settimana e sono insomma abbastanza sotto sotto i riflettori in questo momento e come possiamo vedere eh anche questo prodotto a capitale condizionalmente protetto c'è una barriera al 60 per cento quindi abbastanza distante dai prezzi strike e eh la la struttura che cosa fa? La struttura è stata creata per pagare questi coupon del 2,55 per cento ogni trimestre con un trigger cetolare al 60 per cento quindi ora al momento la situazione è eh sana diciamo il peggior titolo al 94 per cento quindi eh il flusso cetolare previsto viene percepito e cosa interessante di questa struttura è che già dalla prima data c'è il la possibilità di autocall del prodotto quindi qualora un investitore riuscisse a comprarlo sotto il valore nominale e ehm insomma prendesse il il market timing giusto con i titoli che salgono e arrivanno sopra il cento per cento si riuscirebbe a fare un buon rendimento sia dalla plus valenza sia dal coupon che paga il prodotto al momento già adesso eh sì lo lo si prenderebbe sotto la pari quindi c'è un differenziale 93 80 insomma se nel caso andassi in autocolla la prima data quindi il 2 eh ottobre si otterrebbe un rendimento del 9 per cento quindi insomma un 9 per cento in tre mesi non male poi insomma sottolineiamo sempre che stiamo puntando su un un segmento di mercato insomma fortemente long quindi prima che ci siano insomma discese forti o aumenti di volatilità ci sarà tempo secondo me quindi anche questa qua rimane un'ottima occasione per tirare fuori un un 7 8 9 per cento in tre mesi ma quello scusa ti interrompo quello che cercavo di eh di anticipare anche prima no che paradossalmente rispetto anche a un trend così netto eh c'è ancora tanta volatilità da monetizzare su questi sottostanti eh il che insomma sarebbe quasi un andrebbe un po' un contrasto no perché noi sappiamo osservare trend fortemente direzionali con volatilità bassa invece in questo caso dato che comunque si muovono a rialzo ma con strappi anche abbastanza importanti la volatilità è rimasta alta sì questo è anche positivo diciamo per coloro che acquistano i certificati perché diciamo questi certificati col fatto che sono strutture composte da opzioni esotiche le opzioni esotiche diciamo beneficiano eh coloro che acquistano opzioni esotiche beneficiano negli aumenti di volatilità in quanto vanno proprio a far depreciare i premi quindi ovviamente un certificato a parità di condizioni con un VIX a 50 eh costerà meno di un certificato nelle stesse condizioni con un VIX a 30 proprio appunto perché l'effetto volatilità eh riduce i premi delle opzioni sottostanti quindi si possono fare degli acquisti interessanti quando insomma la gente preferisce stare fuori dal mercato ecco questa è un'altra potenzialità dei certificati io andrei a quello successivo Giovanni sì sì allora il prossimo prodotto è anch'esso un Phoenix Memory eh anche questo messo da una casa svizzera OBS in questo caso e anche qua abbiamo una scadenza molto lunga quattro anni e mezzo perché scaderà a fine duemilaventiquattro è un prodotto scritto su insomma sui fang quindi tutti conosciamo benissimo questi titoli esattamente fang tutti loro quindi facebook alfabet Apple Netflix e Amazon infatti le performance rispetto allo strike insomma parlano parlano da sola abbiamo il peggiore sottostante che è facebook al 115 per cento e proprio questa situazione rende molto interessante questo prodotto in quanto il prezzo di acquisto oggi è 970 quindi circa un 3 per cento sotto il valore nominale la cosa molto interessante che il 30 novembre c'è la possibilità di autocall con un trigger al cento per cento quindi che cosa succede considerando che il sottostante worst oggi è il 15 per cento sopra il prezzo strike se facebook non perderà appunto il 15 per cento fino a il 30 novembre il prodotto andrà in autocall rimborsando 1000 euro e pagando due coupon del 2,2 per cento quindi fondamentalmente il l'investitore riceverà mille più 44 euro di coupon con un prezzo di acquisto potenziale oggi di 970 quindi insomma si riuscirebbe anche qui a tirare fuori un 8 per cento in 3 4 mesi con alta probabilità in quanto insomma sono tutti molto al di sopra il prezzo strike quindi questo prodotto lo consigliamo come il trade diciamo di medio termine per impostare un'operazione di qualche mese per chi volesse insomma trovare del rendimento abbastanza probabile qualora invece il certificato non insomma i titoli scendessero molto comunque è un prodotto che ha una barriera down al 60 per cento quindi considerando il prezzo di oggi al 115 per cento rispetto allo strike e una barriera comunque lontana come vediamo dal grafico è addirittura sotto i minimi del covid quindi insomma è un certificato che graficamente ha delle barriere molto difensive insomma qualora non andassi in autocolle si ritroverebbe in portafoglio comunque un prodotto che paga abbastanza bene con titoli molto solidi quindi non ci sarebbe ecco un problema di tenerli in portafoglio ecco anzi sarebbe un ottimo acquisto per il medio termine questo è chiaramente un prodotto che un po' conferma quello che stiamo dicendo no perché io adesso sfido chi ci segue a trovare una stessa dinamica con prezzo sotto la pari su titoli magari europei o magari italiani a 4 5 sottostanti come basket worst of che scambiano sotto la pari con tutti sopra la pari qui addirittura siamo un 15 16 per cento sopra quindi capite bene che insomma la scelta di questi prodotti di questi sottostanti scusate è consente anche di avere accesso a queste finestre come quelle attuali insomma questa opportunità certo rendimento sopra la pari e quindi il rendimento è dato non solo dal flusso cedolare ma anche da un differenziale tra il nominale e il prezzo d'acquisto sotto la pari che comunque aumenta le possibilità di rendimento certo allora fammi divertire qualcosa short selezionata allora eccoci qua abbiamo un phoenix memory reverse questo di casa leon tech diciamo un prodotto questo col fatto che è stato emesso a maggio è uno dei pochi prodotti che insomma è sopravvissuto esatto è sopravvissuto a questo questo rialzo record si compra oggi a 900 900 euro ha una barriera app al cento quaranta per cento rispetto agli strike iniziali e abbiamo questa va qua diciamo si scommette un po contro i tori del mercato perché abbiamo amazon e netflix che comunque hanno corso tantissimo mentre il nasdaq scendeva loro facevano i massimi storici infatti li abbiamo entrambi ampiamente sopra il livello strike soprattutto amazon che un cento ventisei per cento con una barriera a 3.300 quindi insomma finché regge i 3.200 di prezzo stiamo tranquilli poi insomma potrebbero insomma esserci scenari più negativi questo prodotto paga delle cedole anche anche lui trimestrali in questo caso del 3 per cento se tutti i sottostanti saranno sopra il cento al di sotto del 140 per cento del trigger cedolare quindi cosa succede fondamentalmente il flusso qua previsto è del 12 per cento anno si compra a 900 euro circa quindi circa un 10 per cento sotto il valore nominale e abbiamo la prima data di autogall prevista il nove il nove novembre adesso insomma l'autogallo qua ha un trigger al cento per cento quindi sia amazon sia netflix dovrebbero perdere abbastanza terreno di quanto quanto la trimestrale di amazon il 30 luglio chissà quindi magari si potrebbero avere possibilità un possibile autogolla anche se insomma io personalmente lo vedo poco probabile comunque è sempre un prodotto che può andare bene in ottica di insomma se qualcuno ha già certificati con posizioni long su sottostanti simili questo prodotto potrebbe andare bene anche come copertura perché insomma in situazioni di lateralità se questo non sfonda la sua barriera superiore e simmetricamente il long non non sfonda le sue barriere inferiori comunque in situazioni di lateralità si riuscirebbe a generare un ottimo rendimento dato da il flusso cetolare che tutti tutte queste strutture prevedono ecco quindi se si prevede una lateralità estiva fino a settembre ottobre impostare un'operazione certificato long certificato short con gli stessi sottostanti può essere anche insomma un trade intelligente ecco che potrebbe portare soddisfazioni quindi questo lo strike è stato fatto su livelli che oggettivamente riteniamo alti ma per semplice fatto magari adesso potrebbe aver trovato un top anche il mercato americano insomma rispetto anche a come si muove intraday però ecco è un prodotto che tra gli short ovviamente ovviamente non può avere senso ma solamente per un discorso di natura temporale perché tutti gli altri sono stati ovviamente oggetto di un contro trend rispetto all'america che li ha azzerati diciamo che insomma scadenza a livelli correnti possono avere senso soprattutto per chi dovesse avere in portafoglio azioni certificati su nasdaq ma anche fondi etf e quant'altro mettere un prodotto a protezione soprattutto per il mese estivo potrebbe avere potrebbe avere senso del flusso che garantisce anche a bocce ferme certo esattamente probabilmente magari proprio da quello si riesce a creare un cuscinetto per cui una copertura funziona ecco quindi non sarebbe un'idea sbagliata metterselo in portafoglio ok un altro prodotto di cui volevamo parlare oggi è questo cash collect autocollable di unicredit anch'esso è un prodotto comunque con scadenza 2023 emesso circa 20 giorni fa è un prodotto scritto su un basket worst of composto da paypal da facebook e da netflix quindi insomma titoli anch'essi tecnologici fanno parte dello stesso segmento di mercato questo prodotto ha una barriera al 60% quindi anche qua abbiamo una barriera abbastanza distante dai prezzi attuali e fondamentalmente la struttura punta a fare cosa? A pagare dei coupon del 4,5% ogni trimestre a patto che tutti i sottostanti siano al di sopra e il loro trigger è posto al 60% quindi insomma un 4,5% a trimestre significa un 1,5% al mese e un 18% all'anno parliamo comunque di rendimenti che è difficile trovare su altre asset class e che questi certificati possono dare data anche la volatilità dei sottostanti ecco quindi anch'esso è un prodotto che potrebbe dare buone soddisfazioni per i prossimi mesi a coloro che lo acquisteranno ecco abbiamo l'autocall previsto per gennaio 2021 quindi insomma tra poco meno di 6 mesi adesso si acquista 97 quindi nel caso in cui è gennaio tutti esattamente quindi 97 circa 3 punti sotto il valore nominale quindi a febbraio a gennaio scusate si potrebbe percepire due cedro del 4,5% e 3 euro di plus valenza per prodotto quindi potrebbe generare un rendimento insomma del 12 punti su 97 si vale un rendimento quasi del 15% questo in 6 mesi sono titoli comunque abbastanza solidi io insomma come rimango nella stessa idea di quanto detto prima io rimango comunque mi fido di questo punto di mercato adesso ma comunque i certificati hanno variate sempre abbastanza distanti insomma nella maggior parte delle strutture quindi se si dovesse sbagliare il market timing ti danno una possibilità di rimediare all'errore ecco ok Matteo io ti ringrazio abbiamo fatto un quadro davvero molto completo sia sulla situazione degli indici anche dal punto di vista dei migliori certificati su questo su questo settore geografico insomma ecco l'America ci ha imparato a ci ha insegnato a vedere cifre e rendimenti e trend davvero inspiegabili e importanti quindi grazie del quadro che ci hai fatto e niente insomma ti alla prossima per un altro per un'altra view di mercato magari cambieremo il tema e saremo short questa volta li riprendiamo più bassi ciao Matteo ciao Giovanni grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato allora amici eh il quadro di mercato sull'America lo chiudiamo qui sperando comunque di avervi dato un contributo eh per idee e spunti per investimento non mi resta che augurarvi un buon weekend e un buon training a tutti ci vediamo settimana prossima ciao 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 ciao